Il Metano Il Metano Nella nuova Saab Solo un particolare non è all'altezza del nome Saab Fortunatamente per voi È il prezzo È la nuova Forza Pulente È Finish Pastiglie Energia Concentrata Facile da usare Finish Pastiglie sciogli anche le incrostazioni più difficili Finish Pastiglie Più pratico, più efficace Più pratico, più efficace Più pratico, più efficace Run Wild in Marlboro Country La guida ai programmi di aprile Tutti gli orari dei film, dei programmi dei bambini, degli eventi sportivi di Telepiù E inoltre, da pagina 34, le dettagliate informazioni per partecipare a Sbanco Il nuovo grande concorso che regalerà super premi agli abbonati più fortunati Aprile, su Telepiù, un altro mese di grande spettacolo Ad aprile, non dormire, vivi le emozioni del calcio di Serie A che va verso la volata Scudetto e di quello di Serie B E non dimenticare il grande finale dei campionati di Inghilterra e Germania Il tennis ATP non ti dà pausa, rilanciando le sfide sulla terra rossa La grande box ti terrà sveglio anche di notte Otto match mondiali, il club è Chavez Parisi Puoi sognare ad occhi aperti con la straordinaria sfida dell'America's Cup E rilassarti un po' al ritmo del golf con la Gasta Masters e l'Open di Catalogna Certo, non puoi prendere sonno con i campioni dell'equitazione E con quelli del basket impegnati nella corsa playoffs e nella finale del campionato NCAA E prima del meritato riposo potrai stare sotto rete per il campionato italiano e la Coppa Italia Femminile Oltre a provare ancora una volta i brividi di due nuove tappe del Moto Mondiale 95 Non dormire, scegli lo sport, scegli Telepiù 2 Hola, soy Romen Sosa, te lo pedo te regalo una grande fiesta per la prima volta con l'Unice Solidarietà e divertimento per regalare un sorriso al niño della voglia Domenica 16 aprile, 20.30, io ci serò, no mancare Sporting Show, domenica 16 aprile alle 20.30 Su Telepiù 2 Tra poco un western metropolitano con una giovane star di Hollywood, Patrick Swayze Il duro del Roadhouse, regia di Rowdy Arlington Partecipazione di Ben Gazzara e colonna sonora Hard Rock Sonny lo incontrai nel 1960, lui era il numero uno nel quartiere Ho detto a tuo figlio che deve andare a scuola Ma non lo capisci, non è quello che gli dice, è quello che vede, i vestiti, le macchine, i soldi Ti farà del male come a tutti quanti E che me vuoi fare, la guerra? Sta lontano dal mio figlio In anteprima televisiva, il primo film diretto da Robert De Niro Bronx, questo mese su Telepiù 1 Se vuoi un weekend davvero super L'8 e il 9 aprile, scegli Telepiù 2 Troverai il grande calcio La serie A con Cagliari Foggia La B con Ancona Ascoli E la C con Avellino Regino Inoltre c'è un incontro del campionato inglese Ma non c'è solo il calcio nel nostro weekend Una notte di pugni mondiali Con Chavez Parisi, McCall Holmes e Santana Norris E una giornata di volley e basket in piena lotta playoffs Per finire l'inizio della stagione del grande slam di golf con la Gasta Masters Un super weekend di sport per un aprile da record su Telepiù 2 025439 La linea telefonica indiretta per entrare nel mondo Telepiù 025439 Per abbonarsi comodamente da casa propria Lo 025439 è a disposizione tutti i giorni dalle robe alle 22 Ciao, sono Dino Meneghin Telepiù 2 Per la prima volta con l'Unicef organizzo una grande serata di sport e spettacolo Solidarietà e divertimento ancora una volta insieme Per regalare un sorriso ai bambini della Bosnia Domenica 16 aprile alle 20.30 Sarà una grande serata Io ci sarò e tu non mancare Ciao Sporting Show Domenica 16 aprile alle 20.30 Su Telepiù 2 Colgate Total Onda Fresca È davvero nuovo Mantiene l'alito fresco Anche dopo che hai finito di lavarti i denti La sua esclusiva azione antibatterica Continua a proteggerti da alito cattivo Placca Tartaro Carie E disturbi gengivali Per tutto il giorno Nuovo Colgate Total Onda Fresca Anche quando hai finito di lavarti i denti La protezione Continua They're writing songs of love But not for me Our lucky stars above But not for me We love to lead the way I found more clouds I'm afraid Ma non è una golf Ti seduce con le sue meraviglie Ti conquista con la sua arte Ti incanta con le sue forme È l'Italia Un mare di vite e di colore Una bellezza senza fine Da vivere in un weekend Nel comfort esclusivo dei Forti Hotel Lasciati andare a questo sogno straordinario Nella guida ai programmi di Telepiù Troverai tutte le informazioni Per trascorrere un fantastico weekend Nei forti hotel italiani Vivi Italia I weekend delle vacanze Nell'Italia che hai sempre sognato La chiarezza delle proposte E dei programmi Nuova Tirrena Sono una garanzia per il futuro Per questo possiamo assicurarvi Certezza di intervento E tempestività nei rincorsi Nuova Tirrena Assicurazioni Tutto chiaro Alle 19 Una delicata commedia Con Johnny Depp e Mary Stewart Masterson In doppio audio Benny e June A seguire Anthony Hopkins e Isabella Rossellini Protagonisti di una storia d'amore E spionaggio diretta da John Schlesinger The Innocent Alle 23 Per il ciclo dedicato a Brian De Palma Il remake di un capolavoro di Howard Oaks In doppio audio Scarface Telepiù Consiglia la visione di questo film Ai maggiori di 14 anni E vi ricorda che è possibile seguire